it's me mario benvenuto ad un nuovo video innanzitutto metti like e detto questo buona visione oh è lei che ne hai messo te spacco metti like vabbè che esame deve dare la torna a studiare che forza meglio lisi devo dare calcolo le probabilità e statistica matematica no non fanno non entriamo in queste cose per favore ma non voglio il cognome andrea segni particolari che si è fatto tu madre ce ne so tanti da andrea allora ma che se cazzo sempre la risposta web la vuole il 12 come l'età della mia ragazza aspetta fammi capire quel messaggio 9 il 9 paga 100 il 36 paga c'è che cos'era quel messaggio no non del centro nord alexei wow è più forte 2 il top king io sono il top king in che senso che materia di cazzate le sento ogni giorno ragazzi non mi fanno più effetto ma vorrei solo farvi notare come ha definito il top king e non lui non so se ci avete fatto caso non so se avete sentito a parte che ha risposto dopo 3 dopo 3 secondi se uno è sul raisee risponde subito ma la domanda se più forte te o il top king non ha detto sono io il top king e sono più forte io e dopo 3 secondi ragazzi vi lascio interpretare a voi come volete questo è il linguaggio del corpo proprio basic level se volete poter immaginarlo voi o no come è a vostra discrezione un gift da 490 o una skin da 1350 signor dinamiche le faccio un'offerta due gift da 490 e la chiudiamo qua in che senso decida lei ragioni e decida lei accetto andiamo a vedere cosa c'è nel pacco numero che dal suo pacco e c'è e tutti a casa e tutti a casa e via via e anche oggi ho scammato e il cacca minchia buona fortuna cecio non li sentite i miei tasti facciamo una mega sessione di cane psicologo poi e il cecio vince cecio porca miseriaccia porca miseriaccia cecio che struttura c'è la miseria devo chiedere che premio volesse ci sono 20 all'odrp che arriveranno sicuramente e poi decidere se un coaching da 4 ore o il vip sul canale a vita mi sembra eh ma il fatto è che io non sono sub nel canale e non fa niente il vip anche se non sei sub te lo posso mettere ah posso comunque prendere il vip ah in realtà tu che lo sai adesso? sono di due allora prendo il vip a pezzo di merda scrivi il chat scrivi il chat se tu dice così te ti metto io vado a piscire e torno grazie Marco meanwhile scummer poi ragazzi decideremo insieme a nette per donare questi 65 ore nel caso qui diventassero di più però merda oh ma ho vinto? perché c'ho 198 euro? chat che cazzo è uscito? 10x? chat 2,50x allora chat tutto a posto ragazzi grazie ciao tut pit i Vabbè, ma c'è stato fino a qua Cioè La sua vita è normale O forse è Dada Eh, chiudete le bet Vabbè, fa niente Quale slot prenderà il bonus prima Attenzione, SWK subito Il teaser è il bonus SWK Pagate pure le bet SWK GG, GG, GG Nope Ciao, te lo so una domanda? Ok Ok, Davy Vai Mi raccomando Uscite il focus Ok Rengar, Rengar, Rengar Rengar Ti ho dato però E' stato di merda Sinceramente Oh, oh Oh, e' presto penta, vieni, vieni presto penta Pienta, vieni, vieni, vieni presto penta Vieni, 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 in due no, in due no, eh In due no, eh Vieni, 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 vieni Adesso Oh, anche tu Vieni, vieni E' presto Oh, aiuto, aiuto Fin di mio, fin di mio Due, un'ora Ulti Ulti Che ulti de' merda Non mi ha mai mai deli No, vabbè, dai Oh, vi ecce, vi ecce Fezzo de' merda Fletch la pure, che ulti Doge l'ulti Incanta Doge l'ulti Doge l'ulti Doge l'ulti Eh, doge, 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 doge ma che stiamo a scherza si fanno chiudere tutto a pezzi di merda youtube ma ti pari ma hanno messo pubblicità porno veramente youtube o soft porno l'ha messo ma pure a me ce l'ho capitato un sacco si vabbè quanti porno cerchi metti di minorità ma che sei matto economica un figlio pianto li accagerino da winky forse dovremmo mettere fuori di davinki un'ora di ban se non lagga su Vluna ai tempi di Tor ovviamente poteva pure fare girare Sirefunk a voglia ooooh piccola Ketty ooooh piccola Ketty sono nel da 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 ooooh piccola Ketty ooooh piccola Ketty ooooh ooooh piccola Ketty ooooh piccola Ketty ooooh devo smettere? scusami Dark scusami però no dai vado via perchè sennò mi chiedo a Renekton faccio un bel giretto toggio questa oddio 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 ciao aiuto ooooh aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dai eeeh ma ha buttato fuori chat crazy crazy sempre ora ora di lorenzo piangere gas si chi ha aiutato ha detto di estrai nico tu legge strano ma scommettiamo le auguro una buona fortuna al prossimo fenders ho una brutta notizia per lei la vuole sentire adesso o dopo